Un Matteo Renzi di altri tempi con un De Mita, invece identico, stupendo, perché De Mita è identico. Renzi è molto cambiato. Allora, mi dica una cosa, De Mita, qual è il suo giudizio politico sul Premier Matteo Renzi? Giudizio politico. Io non avevo giudizi su Renzi. Poi questa fotografia bisogna storicizzarla. Sì, mi dica oggi il giudizio che ha. E lo dico paradossalmente, il mio giudizio quando è partito era negativo, perché sarà un mio difetto. La politica senza pensiero non ha valore. Ma non c'ha pensiero Renzi? E no, ha parole. Il pensiero è una cosa diversa. Il pensiero è un prodotto raro in questo momento. Però, siccome ho la consapevolezza della fragilità, dell'equilibrio democratico nel nostro Paese, avevo proposto di togliere la legge elettorale, perché noi del raccordo legge elettorale e riforma non ne parliamo.